Bella ragazzi, eccoci qua, benvenuti in questa Road to Division 1 Ci presentiamo subito con questo qua che c'ha due IF David Lewis in difesa Vabbè, intesa 92, valutazione 80 Ce la possiamo fare ragazzi Ci manca un punto per salire di divisione ragazzi In due partite Aquilani Aquilani Paloschi Aquilani di testa Porco Giuda Dai, dai Bisogna assolutamente vincere anche se Ci basta anche un pareggio perché ci manca solo un punto Ma Tre punti sono meglio di uno Ecco Quello che l'ha visto che è partito Mettere in mezzo Ma Oh Fanculo Cos'è andato a prendere Ma porco cane Dai andiamo con questo angolo Questa è bella Oh, mano Ma guarda Che culo che c'ha questo qua Dai Ma che cazzo fa Eccolo Mamma mia ragazzi Che invenzione di Francesco Totti A Vigarsia la mette dentro 1-0 E andiamo Guardate qua che invenzione Pam Di esterno E si lancia in scivolata a Vigarsia Ragazzi Anticipa tutti E la mette dentro Paloschi Mamma mia Cos'è andato a prendere ancora Poi di testa Non te la fai Ma vai Ma vai Ma porco giuda Tutto il campo si è fatto Mamma mia Eccolo qua Alberto Paloschi Si presenta così Davanti al portiere 2-1 ragazzi E andiamo Bam Se sentite Un antifurto Che sta andando Un po' di casino Perché Sta succedendo un po' di casino Giù in strada E quindi Si sente tutto Valleo Eccolo Attenzione La fita La metti in mezzo No Eccolo 3-1 Gabi E andiamo Ragazzi Verso sta promozione Della divisione E vai E vai Paloschi Prova il destro Mamma mia Sì E' andato Mamma E' buona E' buona per Aquilani Aquilani a giro Dai Dai Ma va Fanbrodo Che casino Un'ora ci mette a tirare Bravo Aquilani Come lo salta C'era anche fallo Però Regola del vantaggio Giustamente Aquilani Prova il destro Aquilani Mamma mia Dai corri Chiudilo Bravo Cazzo Fai Gabi Davanti al portiere Tiro a giro Gabi Eccolo lì Palo Gol E andiamo Con questo Quarto Gol Ragazzi Prende palla Totti Recupera Tutto da solo Totti Prova anche il sinistro Totti Uuuuh Mamma mia ragazzi Totti si è impazzito Paloschi Paloschi davanti al portiere Nooo Nooo Non ti puoi mangiare questi gol Sì Aquilani Ha visto di là Totti Finita il tiro Ah Ancora buona Ancora buona La mette in mezzo Totti Uuuuh Rigore Rigore Sì Dai Totti Totti Francesco Totti Sotto l'incrocio E andiamo Quanti gol Anche in sta partita Ragazzi E ormai La promozione È nostra Dai ragazzi Che Siamo al novantesimo Abbiati Forse è l'ultima parata L'ultimo angolo Di questa partita Ma per noi ormai È fatta Butta la via Tutti su Portala su Fischia Eccolo qua Che finisce E andiamo Ragazzi Che saliamo di divisione Ma vai 5 a 1 Ragazzi Questa super vittoria Ci porta Alla prossima divisione Ragazzi Andiamo subito a vedere Allora Tiri Abbiamo fatto 19 tiri 12 in porta Lui 11 8 in porta Dai Andiamo subito a vedere Opa Titolo 12 punti Ragazzi Quindi siamo passati Ci manca Oh Una partita E possiamo andare a vincere Proprio La stagione Il campionato Diciamo Dobbiamo vincere Anzi no Anche pareggiare La prossima partita Visto che ce ne manca Ancora una Proviamo ragazzi Dai L'importante È aver passato La La divisione Ed essere stati promossi Quindi niente ragazzi Questo video finisce qua Vedete tanti like Iscrivetevi al canale Commentate E noi ci vediamo Nel prossimo video